La menopausa è un evento naturale nella vita di ogni donna. Segna la fine del ciclo mestruale e della capacità riproduttiva, e di solito si verifica tra i 45 e i 55 anni di età. Durante la menopausa, il corpo della donna subisce un cambiamento ormonale significativo. In particolare, la produzione di estrogeni e progesterone diminuisce, il che può causare una serie di sintomi. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un mi piace e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Inoltre una parte del ricavato dei proventi che arriverà da questi video sarà destinata al progetto Piantalend, boschi di benessere in Italia. Sostienici, informiamo e miglioriamo anche l'ambiente che ci circonda. I sintomi della menopausa possono variare notevolmente da donna a donna. Alcune donne possono non avere alcun sintomo, mentre altre possono sperimentare sintomi intensi che durano per anni. I sintomi più comuni includono vampate di calore, sudorazione notturna, secchezza vaginale, cambiamenti dell'umore, insonnia e aumento di peso. Alcuni sintomi possono essere gestiti con modifiche dello stile di vita, mentre altri possono richiedere un trattamento medico. La menopausa può essere un momento stressante per molte donne, ma ci sono molte cose che si possono fare per affrontarla serenamente. In primo luogo, mantenere uno stile di vita sano può aiutare a ridurre i sintomi. Ciò significa mangiare una dieta equilibrata, esercitarsi regolarmente e ridurre il consumo di alcol e tabacco. In secondo luogo, parla con il tuo medico se i sintomi della menopausa stanno influenzando la tua qualità di vita. Ci sono molte opzioni di trattamento disponibili, tra cui terapia ormonale, antidepressivi e integratori naturali. In sintesi, la menopausa è un evento naturale nella vita di ogni donna e può causare una serie di sintomi. Tuttavia, con un po' di preparazione e la giusta attenzione medica, molte donne possono affrontarla serenamente. Parla con il tuo medico se hai domande o preoccupazioni sulla menopausa o sui sintomi ad essa associati. Il tuo medico può aiutarti a sviluppare un piano di trattamento che sia adatto alle tue esigenze. Stai cercando il ginecologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link Su YouTube clicca sulla campanellina Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo Questa è un'idea di UMA Innovation Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto Vai su uno dei nostri siti Buona giornata!